La diocese di Milano è impegnata da tempo in Zambia, 50 anni, con i Fidei Donum e anche con questo ospedale che è diventato un fiore a rocchiello negli anni, che però ha bisogno anche di una gestione ordinaria. Progetti, ma l'ordinarietà, proprio venire incontro alla realtà. Sì, allora abbiamo, come dicevo prima in conferenza stampa, abbiamo chiesto questa collaborazione auxologico proprio per aiutare l'organizzazione dell'ospedale, di modo che sempre più le persone locali potessero essere in grado loro di gestire direttamente un ospedale che ha le sue complessità e che tante volte in questi territori hanno una logica diversa di organizzazione rispetto alla nostra, per cui riuscire a interpretare quella situazione con un'organizzazione adeguata a quelle persone è un po' il futuro dell'ospedale stesso. Quindi questa è stata una collaborazione interessante e una collaborazione altrettanto interessante è quella che, questo l'abbiamo da 50 anni con queste religiose, con appunto le suore di Maria e Bambina perché permette attraverso una presenza non solo di suore italiane, ma appunto a questo punto di suore che spaziano dall'India all'Africa, all'America Latina, di dare un volto di chiesa diverso dove appunto non è una chiesa che colonizza, ma una chiesa che condivide condivide secondo le caratteristiche tipiche del luogo, ma anche tipiche di chi arriva. Questo permette di guardare al futuro della chiesa e anche attraverso queste istituzioni comunque pesanti da un punto di vista finanziario e organizzativo di avere un futuro che altrimenti rischierebbe di fermarsi a una pura assistenza che non ha un gran futuro. Quanto è importante per il territorio africano, lo Zambia, l'ospedale che avete in loco? Beh, già accennavo prima che dal punto di vista anche governativo è ritenuto uno degli ospedali più importanti anche di qualità di tutto lo Zambia. Si muovono da territori che non sono necessariamente di pertinenza di questo ospedale, ma riconoscono in questo ospedale una cura alla persona che è diversa rispetto ad altri, non perché necessariamente è l'unico, ma perché ha dietro una formazione di 50 anni ormai di tutti gli operatori, secondo uno stile ben preciso, che è quello che di fatto è stato dato tramite queste religiose presenti, attraverso anche competenze di volontari che fanno periodi di volontariato appunto in ospedale, medici, infermieri, che in qualche modo trasmettono le loro competenze, ma anche la loro passione ovviamente per la persona che poi incontrano, non semplicemente come un mestiere da svolgere. È un segnale forte, la chiesa che incontra una banca, un po' come il diavolo dell'acqua santa. Sì, in realtà appunto io credo che questo tema sia un tema molto delicato, ma nello stesso tempo riteniamo che le banche, nella misura in cui riescono ad intercettare i bisogni e a farsi promotori di alcuni bisogni, siano comunque, diano comunque un segnale interessante e lo stesso strumento del social bond ha proprio questa caratteristica, come già dicevo, non è tanto l'impatto economico immediato ciò che importa, ma è poter coinvolgere direttamente le persone che frequentano la banca e che operano all'interno della banca. Questo permette di cambiare dall'interno anche uno stile di lavoro che non guarda solamente al profitto, perché in questo caso la banca ci smena, tra virgolette, ma che guarda il valore aggiunto, che appunto non è monetizzabile, ma che comunque c'è sia per i clienti, ma anche per gli operatori stessi. Grazie.